Le tartarughe marine nuotano sulle scale, i delfini si aggirano fra i tavolini dell'aperitivo. Piazza Gaia Aulenti a Milano si è trasformata per un giorno in un fondale marino mediterraneo, grazie alla realtà aumentata, protagonista dell'ultima iniziativa del WWF. La tecnologia usata è Microsoft HoloLens, il visore che arricchisce l'ambiente reale con ologrammi, audio e informazioni interattive. Un'immersione virtuale per sostenere la campagna Generazione Mare, lanciata allo scopo di creare maggiore consapevolezza del valore degli oceani attraverso la conoscenza delle specie marine del mar Mediterraneo e della loro difesa attiva. I visitatori hanno camminato fra le specie simbolo, imparando ad adottare un comportamento amico nei confronti del mare a partire dall'acquisto consapevole di pesce.